Un saluto amici del Centro Meteo Italiano. Settimana piuttosto aposa, questa appena conclusa. Vediamo allora come potrebbe essere la prossima. Nel weekend clima meno umido grazie alle correnti più secche dai quadranti settentrionali. Qualche temporale sui monti, ma nel complesso sole prevalente sull'Italia. L'inizio della prossima settimana vedrà l'anticiclone protagonista sull'Europa occidentale e in allungamento fin verso la Scandinavia. Sui settori orientali avremo invece una vasta circolazione depressionaria con clima più fresco e tempo instabile. La nostra penisola si troverà sul bordo dell'anticiclone. Le correnti più fresche in quota potrebbero accentuare l'instabilità pomeridiana specie sui settori interni. Da monitorare poi con i prossimi aggiornamenti la traiettoria di questa goccia fredda in movimento sull'Europa centro-orientale. La seconda parte della settimana potrebbe poi vedere l'espansione di un piccolo promontore africano specie al sud Italia. Caldo ma con temperature in linea con le medie del periodo e con tassi di umidità decisamente più contenuti. Trattandosi di tendenze sul medio-lungo periodo seguite come sempre gli aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale di YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.